Reddito di cittadinanza. L'Inps ha diffuso nelle scorse ore i dati aggiornati al 30 aprile. In provincia di Como sono state presentate 3510 domande. Il numero è la somma delle richieste arrivate sui tavoli di CAF patronati e poste dallo scorso 6 marzo. A livello nazionale la Campania è la regione che ha fatto registrare le cifre più alte, mentre la Valle d'Aosta è quella che ne conta meno. In Rivellario le richieste avanzate dalle donne sono la maggioranza, 1922 contro le 1588 degli uomini. Il totale, che ammonta come detto a 3510 pratiche, rappresenta soltanto una minima parte della popolazione, lo 0,58%, una percentuale molto bassa. Stessa situazione anche a Lecco, con 1879 domande, ossia lo 0,55% dei cittadini. Scenario diverso a Varese, in cui l'incidenza delle domande sul totale della popolazione è pari allo 0,86%. Mi aspettavo un numero più alto, commenta Francesco Diomaiuta, il subreggente della Cisla dei Laghi. Va detto comunque che l'economia di Como è diversa da altre realtà lombarde, in primis quella della vicina Varese. La provincia lariana vive molto di turismo e commercio, ambiti nei quali il lavoro, sebbene spesso sia precario e retribuito in modo non corretto, si trova. Diverse invece sono quelle realtà, aggiunge Diomaiuta, a traino industriale, che quindi hanno risentito di più della crisi e hanno creato disoccupati che oggi faticano a ricollocarsi. Molti di questi hanno i requisiti per poter richiedere il reddito di cittadinanza. Tra chi sta presentando le domande ci sono molte persone di mezza età che non riescono a trovare un nuovo impiego, conferma Giacomo Licata, segretario provinciale della CGL. Per quanto ci riguarda, nei nostri centri siamo ormai a circa 800 domande. Il rischio vero, aggiunge, è che è uno strumento di contrasto alla povertà con ancora troppe lacune, basti pensare a tutta la parte di politiche attive del lavoro su cui regna il caos. Il dato comasco è abbastanza basso e credo che molto abbiano influito anche i criteri più selettivi rispetto al reddito di inclusione, commenta Salvatore Monteduro, segretario generale CST Uile Dell'Ario. Sarà poi da valutare quanto questa resterà una forma di sussidio e quanto invece aiuterà a ricollocare. La verità, conclude, è che se non si consolida la ripresa, difficilmente arriveranno reali opportunità di lavoro.